mi sono dimenticato una cosa importante o meglio dire mi sono perso una cosa importante qui c'è il libro che cercavamo quindi quindi siamo riusciti a trovarlo ricordo che siamo qui su insonnis titolo molto molto interessante che vorrei capire dove può arrivare perché sembra veramente intrigante tanto intrigante allora qui non c'è niente a questo è un secondo me potrebbe essere una soluzione sì però perché non lo prendiamo un floppy disk che cavolo è è un floppy disk no o sbaglio oh che bella bambolina bella bella eh fa ansia solo a guardarla ma cosa sarebbe questa questa cosa qui mancano i numeri mancano eh aspetta a a n anna anna chi è anna ha fatto bene sì a n n anna forse è la bambina ma era un bambino mi sembra a me anna cosa vorrà dire Ci deve essere altro in questa stanza Ci deve essere altro Ci deve essere altro Anche perché Anna Come si può collegare alle cose che abbiamo visto in giro? Non ne ho idea No eh Sì ma che ansia Ma che c***o Il gioco ha dei suoni un po' così Siamo ancora bloccati Ah Sempre bello essere bloccati Sempre bello eh Come fa ansia a ste musiche? Non so voi Niente Anna E a cosa potrà servire questa Questa Anna? Non è che c'è qualcosa qui? Eh no Allora l'unica è andare di sopra Credo Che c***o è stato? Che c***o è stato raga? Che c***o è stato? Mamma mia Mamma mia Comunque questo gioco veramente mi farà infartare Cos'è? Non l'avevamo vista questa? Non mi ricordo Dove siamo? Salve Sì E tutto molto be' Ah ma si colora Bellino Ah Sì ma per fare Anna È un po' un casino Ah Eh No Anna Anna Poi C'è altro? Quanto pare sì Playground Non credo Anche perché Manco c'è sta la P Ah devo trovare Tutto Tutto Anna Forse Ce ne sono due Non credo però No 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 e che cosa devo fare che cazzo è stato stavolta oh porca si però c'è non si può ho capito che ma questa stanza non c'era prima mi scusi? ma è vivo? ma che c'è Anna insomma c'è la colanna che devo fa' qui? di preciso ma respira quell'uomo Peter ma quanti giocattolini mancano? ah due vabbè ok pochi mi scusi? io mi avvicino eh ciao possiamo essere amici? giugno 93 Roman ho parlato con l'amministrazione sembra che tu abbia pagato la prigione fino ai miei 18 anni comprese l'estate e il natale quindi immagino che quello che volevi era che io sparissi dalla mappa immagino che non te ne freghi niente può essere ma ma è un robot mi scusi? vabbè è un po' sei un po' espiritato intanto salvato eh sì ma mi fai ansia vabbè io ho una chiave che mi frega di lui e qui cosa posso fare io? me ne vado eh fai bravo mi raccomando e questa chiave cosa può servire? no 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 di sotto secondo me se non accadono altre cose di sotto anche se ormai credo che è più facile che accadino le cose se devono accadere di questo passo che ansia comunque questo gioco e infatti eh no però è così no sta stanza tutta bianca anche no vabbè che dire ma non si può vedere sotto no noi stiamo scuro di tutto e di tutti non mi sembra una grande mossa il memo ah ho capito beh questa volta mi ha fatto un po' meno paura perché me l'aspettavo ormai ho capito che ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo lui fa qualcos'altro di nuovo di risposta quindi di conseguenza diciamo che ormai mi aspetto questi colpi di scena ah è vinile mi può servire mi può servire anche tanto questo vinile ma boh ora è tutto aperto possiamo andare su credo credo eh però prima io mi concentrerei scusate sul vinile eh senti che bello spero non abbia copyright sta canzone quindi cosa ho sbloccato con questa bellissima canzone salviamo mi sembrava un po' pazzo da lontano vi giuro allora il memo ma non c'è più il ragazzo è scomparso ma è sangue dove è finito aspetta ripire no niente ho detto una cavolata eeeh vabbè ma che ca e cosa ne so si lo so come si gioca al memo certo che se iniziamo così no ok ok ma no ma porca porca miseria ho sbagliato allora quindi su giù cosa ho vinto quindi qual è il mio il mio premio non ha ma c'ha un premio che che è la ringrazio grazie mille che ca ah si è sparito vabbè primo cioccolata cioccolate cioccolate secondo hospital terzo sandwich quarto radio radio ok e quinto banana perché mi mi sono scordato la banana banana però non vorrei che fosse in italiano o in inglese dite ma in inglese banana com'è che era un attimo quello cerco ma mi ricordo e quello il punto è che questo momento non mi ricordo ho un voto di memoria ho un voto di memoria no ma si dice uguale ma ma cagare ma si dice uguale allora cioccolate o o s s w o n oswan ma sicuri che sia oswan sarà oswan ma proprio sicuri che sia oswan che poi come potrei collegarla oswan oswan allora era in italiano secondo me ho fatto ma che bellino dove vai oswan perché oswan scusate ma mi devo cavare il pensiero eh allora cioccio ecco oh os no è in inglese questo sarebbe la p no allora ho sbagliato qualcosa io lo sapevo che esisteva questo posto ah l'ho colorato io che bellino e mo mo che devo fa ma non si sa e consigliato si mi pare si può aprire manca la maglietta ti manca la maglietta oh cazzo non me l'aspettavo e ma dove sei andato oswin che è è pronto il sandwich dove stai dove stai oswin dove stai dove sta dove oh cavolo ehm c si ho capito però e come dovrei vederlo e questo non non l'ho capito questo non lo sto capendo devo essere sincero non lo sto capendo allora e e è troppo lunga la frase c c que 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 che spagnolo che no non credo che sia spagnolo c v e perché non so se devo vedere prima chi esce o prima chi entra e poi chi esce non lo so non capisco questa cosa per me è e vc tia si però mantene allora qualcosa devo fare o sparo a caso tipo non so però fa cose casuali magari funziona ma con quello che c'ho non credo infatti non funziona la fava bene fa molto piacere ma non è che un po' di fortuna di tanto no c'è proprio un po' sfortunato fino alla fine della mia vita niente da fare niente da fare guarda mi arrangio però non ho capito vorrei un tutorial per quello che mi hai appena descritto caro mio un tutorial sarebbe consigliato no perché è così complicato andare avanti perché lo è non so e vc th io provo a fare così e poi non lo so vado un po' a sensazioni e v no e vt ma c'è e vc c'è av e vt vt c h vt o hc t i v no ragazzi devo devo un attimo ragionarci io vi do appuntamento al prossimo episodio penso che sarà anche quello conclusivo a scansi di a scansi di problemi tecnici a parte tutto sto video di gioco non si capisce la fava ve lo posso dire però era una vie normale vabbè il concetto è quello non si capisce una fava ragazzi io vi do appuntamento alla prossima ciao